Spesso le religioni sono state tacciate di essere l'oppio dei popoli. In questo senso cosa pensi? Che le religioni rappresentano una narrazione attraverso cui scappare dall'angoscia della morte? Molto spesso è così. Le religioni possono anche essere l'oppio dei popoli, essere usate così, ma ovviamente non sono solo queste. Hanno anche la capacità di trasmettere e tramandare tante intuizioni che offrono la libertà. E' sempre un po' un problema. Le religioni hanno tante facce perché sono fatte di strutture, di uomini, di storie. E quindi in qualche modo c'è un po' di tutto, come c'è un po' di tutto nell'umanità. Ecco, diciamo che molto spesso hanno una funzione anche di ordine. Il fatto di diffondere un'etica, per esempio, chiaramente ha la sua importanza nel armonizzare i rapporti. L'etica ha a che fare con i rapporti interpersonali. Se una persona fosse da sola su un'isola deserta, che senso avrebbe dire non rubare, non mentire? Non c'è nessuno a cui mentire o cui rubare o non uccidere, no? Quindi è chiaro che l'etica ha a che fare con i nostri rapporti interpersonali che devono essere armonizzati per il fatto che si vive a contatto, in comune, no? Allora, per esempio, le religioni hanno questo compito, fra l'altro, dal punto di vista, diciamo, di una civiltà, di una cultura e così via. Come ce ne hanno tanti altri. Poi, all'interno di una religione, si possono trovare tante cose diverse. Si può trovare, per esempio, appunto come dicevi tu, un modo di rassicurare le persone esorcizzando la morte. Non ti preoccupare se hai paura di morire perché tanto c'hai un'anima eterna, per esempio, no? Una delle possibili risposte. Oppure sei in un ciclo di andare e venire, in un ciclo di rinascite e morti, per cui la cosa continuerà per tanto tempo. Ecco, da questo punto di vista, in qualche modo, mettendo la sordina una specie di anestesia all'angoscia esistenziale, c'è il rischio che la persona non si svegli mai a porsi le domande fondamentali. Cioè, di fronte al fatto che morirò, chi sono io? Ecco, queste domande non è che hanno delle risposte preconfezionate, no? Se invece ce le hanno, metto un tappo al dubbio, no? Mi ricordo che quando uno dei miei figli andava all'asilo nido, ci accorgemmo che era venuta anche oltre alla maestra, c'era una maestra nuova e si è scoperto che era una maestra che praticamente parlava di religione. E noi siamo stati un po' in dubbio che fare, se esonerare o meno, non perché noi non vogliamo che, anzi, io ho una grande attenzione per gli aspetti della spiritualità, dell'investigazione dell'esistenza, ma perché poteva darsi anche che invece ci fosse una specie di indottrinamento, che potesse soffocare la naturale apertura dei bambini piccoli al mistero dell'esistenza. E allora siamo andati a parlare con questa maestra, onestamente mostrandole i nostri riservi. E la maestra rispose, dice, no, voi invece dovreste mandare vostro figlio qua, perché è proprio a quattro anni che il bambino si apre alle domande più grandi del mondo, di che cos'è, eccetera. Così noi gli diamo le risposte e non ci devono più pensare. Ho detto, va bene, noi sentiamo da religione, naturalmente. Ecco, questo è un po' il rischio che hanno le religioni, soprattutto quando sono istituzionalizzate, che pretendono di darti delle risposte che, ripeto, anestetizzano l'angoscia esistenziale del nostro essere per la morte e che quindi ci impediscono di esplorare i nostri interrogativi, i nostri dubbi. Ma non tutte le religioni fanno questo e nelle religioni ci sono sempre dei personaggi spesso scomodi se la religione è molto gerarchizzata, spesso sono i mistici, che invece badano più alle domande che alle risposte, almeno. Ecco, il buddismo, per esempio, è una religione che non ha mai nascosto, anzi, ha sempre sottolineato nella storia stessa del Buddha che, prima di raggiungere l'illuminazione, uscendo da una specie di gabbia dorata in cui era vissuto fino ad allora, incontra un giorno malato, un giorno un anziano, un giorno morto. E scosso da questa esposizione a questo grande interrogativo della nostra condizione esistenziale come esseri umani, decide di lasciare tutto e di dedicare la sua vita a approfondire questa questione, la grande questione della vita e della morte. E spesso, nel caso del buddismo, dai testi antichi, viene fuori che il Buddha incoraggiava un dubbio critico. Quando capita in una città in cui gli abitanti dicono, senti, noi abbiamo un sacco di dubbi perché qui vengono continuamente dei guru, dei maestri, dei saggi, viene uno e dice la verità è questa. Poi viene un altro e dice no, è quest'altra. E noi abbiamo dei dubbi. E la risposta del Buddha è stata non, adesso ve lo dico io, qual è la verità, ma è stata questa, dice fate bene avere dei dubbi perché sono dubbi su questioni aperte. e la sua indicazione era ispirata a un grande pragmatismo. Dice non fatevi convincere che una cosa è vera da una tradizione religiosa, dai le sacre scritture, dai vostri sensi che a volte ingannano, dalla ragione perché un ragionamento può essere giusto ma non applicarsi alla realtà, dal buonsenso per cui uno pensa che le cose siano così perché gli altri pensano questo. Quindi non fatevi, non inducetevi a pensare per vero qualcosa detto da tutto questo e neanche da uno che è il vostro maestro, allora siccome l'ha detto il vostro maestro deve essere vero. Ma quando voi per vostra diretta esperienza sentite che una cosa vi fa bene, fatela. Quando sentite che una cosa vi fa male, lasciatela aperta. Quindi ognuno è, lui dice, isola a se stesso da questo punto di vista, cioè deve basarsi sulla sua diretta esperienza. Perché, dice il Buddha, il risvegliato indica la via, ma non è che ti può portare. Il Buddha invitava anche i suoi seguaci a usare i suoi insegnamenti come un modo di attraversare le acque della sofferenza, come una zattera, ma da non portarsene appresso come se fossero anche quelle la verità assoluta. Cioè la verità assoluta non si può esprimere né a parole né ad azioni. Quindi anche tutto l'insegnamento del Buddha, dice lui, è un po' come un serpente velenoso. Se lo acchiappi male ti morde e ti avvelena. E qual è il modo di apprenderlo bene? Non prenderlo come la verità assoluta, ma usarlo per aiutare il percorso della liberazione. C'è un altro maestro di una versione buddista cinese di secoli dopo, secoli e secoli dopo, il quale dice grande dubbio, grande risveglio, piccolo dubbio, piccolo risveglio, nessun dubbio, nessun risveglio. Quindi non è questo atteggiamento che dicevamo di non mettere l'anestesia alle grandi questioni, ma di stimolare il dubbio, certamente non è così frequente nelle religioni. Cioè l'aspetto prevalente delle religioni è rivolgersi a una massa di fedeli per dargli un sostegno, una sicurezza, una serie di certezze incrollabili. Questo è un aspetto che secondo me fa l'anestetico appunto. Ecco, però troviamo un po' in tutte le religioni poi delle linee minoritarie dei personaggi straordinari che riscoprono la bellezza di aprirsi al mistero e alla meraviglia che questo comporta. Questo c'è dappertutto. Quindi c'è spesso questa dialettica all'interno delle religioni fra una ala tradizionale e dogmatica prevalente in genere che dice questa è la verità e se la segui stai al sicuro e che ti blinda in una serie di concetti e di credenze e un'altra parte invece che è un'altra linea fresca che zampilla di tanto in tanto e che in qualche modo ti apre alla bellezza del mistero.